Nel 2008, il direttore della rivista Wired, Chris Anderson, ha annunciato la morte della teoria. Ovvero, i big data rivoluzionerebbero addirittura il metodo scientifico, in quanto non ci sarebbe più bisogno di interpretare questi dati, perché sono talmente tanti che raccontano la realtà, rappresentano la realtà per quello che è realmente. Lei, Sabina, è d'accordo con questo tipo di affermazione sui big data? Assolutamente no. Chiaramente è una affermazione molto provocatoria, è anche un'affermazione che viene sempre usata per vendere questa idea, che i big data stanno rivoluzionando il mondo, che grazie a tutte queste fantastiche tecnologie sappiamo tutto di tutto e quindi non c'è più bisogno di pensare a quali sono le fonti della nostra conoscenza, perché conosciamo tutto, perché abbiamo dati su tutto. Io un po' dal punto di vista empirico del mio lavoro ho proprio dimostrato il fatto che questo non è vero, che infatti le fonti di dati che vengono circolate, a cui la gente veramente ha accesso, a cui i ricercatori hanno accesso, sono molto limitate e assolutamente non rappresentano tutto quello che è nel mondo, ma ne rappresentano solo una piccola parte, che è selezionata su criteri che molto spesso hanno a che fare più con chi finanzia questa produzione dei dati, che veramente col tipo di conoscenza che se ne vuole prendere. L'altro motivo è un motivo filosofico che ha le sue radici in duemila anni e più di filosofia, in cui tutti i grandi filosofi hanno sempre riconosciuto che non esiste avere dati e grezzi, dati che ci danno informazioni sul mondo che non sono mediate. Tutto quello che noi usiamo, tutti gli oggetti che usiamo nelle ricerche scientifiche, ma anche nelle vite di tutti i giorni, per acquisire informazioni dal mondo, sono tutte cose che noi mediamo e che acquidiamo un certo tipo di valore. E molto spesso nella scienza questo vuol dire anche un valore teorico, concettuale. Quindi quando qualunque ricercatore produce dati lo fa attraverso strumentazioni, lo fa attraverso apparati particolari che sono tutti costruiti sulla base di principi teorici molto precisi e che, da un certo punto di vista, ritengono in se stessi una traccia di tutte queste particolari prospettive che uno ha. Quindi tutti i dati vengono da una certo tipo di prospettiva concettuale e anche il modo in cui vengono organizzati spesso è molto basato su teorie, su aspettative di come uno potrebbe usarli. Quindi questa idea della morte della teoria nella scienza dei dati è assolutamente sbagliata, perché troviamo teorie a tutti i livelli, a livello di cosa sono i dati e come vengono prodotti, a livello di come vengono mobilizzati, come vengono classificati e anche a livello di come poi vengono usati e interpretati. Ecco, lei Sabine in particolare sta lavorando ad un progetto che sta tracciando la traiettoria dei dati, cioè va a vedere da dove nascono, dove vanno a finire e chi li usa e che cosa ha potuto vedere seguendo questo viaggio? Ma è un viaggio complesso da seguire proprio perché molto spesso non è chiaro chi è che poi adotti dei dati che vengono creati, diciamo per esempio in un laboratorio scientifico oppure in uno studio medico. Ogni volta che si cominciano a prendere delle note, delle osservazioni su quello che magari un dottore vede in un paziente, ogni volta che si produce una sequenza genetica, quando è in un laboratorio si ha un certo sample e si produce una sequenza genetica, cosa succede a questi dati una volta che vengono per esempio messi online tramite un database, tramite un servizio internet di qualsiasi tipo, un sito internet? Questo è quello che siamo occupati di tracciare e questo ha voluto dire molto spesso focalizzarsi prima di tutto su il modo in cui i dati veramente vengono mobilizzati tramite tecnologie digitali e capire come queste funzionano, come si relazionano l'una con l'altra. Per esempio con i dati genetici, questo è molto complesso perché esistono ormai migliaia di siti internet e di database e di banche dati che assorbono questi dati, si li scambiano tra di loro, li arricchiscono in vari modi, li classificano in vari modi e poi magari li passano a un altro servizio, a un altro settore e quindi questa è una cosa molto complessa cercare di tracciare questi movimenti e poi ancora di più, ancora più complesso è ricostruire i modi in cui i dati che sono disponibili in questi modi digitali vengono poi prelevati e utilizzati per scopi precisi. Per esempio abbiamo fatto un bel po' di lavoro su cosa questo vuol dire nel settore biologico in cui si cominciano a produrre conoscenze per esempio su come una certa malattia si diffonde in un certa parte del territorio e mettendo insieme i dati che vengono dalla selezione genetica, i fattori genetici dei patogeni che sono coinvolti nella malattia, ma anche le caratteristiche dei pazienti che soffrono della malattia, le caratteristiche del territorio, il clima, il tipo di stagione e proprio guardando a questi tipi di usi riusciamo poi a ricostruire che cosa in questa lunga e complessa traiettoria di viaggio dei dati ha in un certo senso condizionato l'interpretazione che se ne dà. Per esempio, sempre nel caso di capire come certi libri malattie possono erompere o possono diffondersi in certi territori, molta di quella conoscenza dei modelli che usiamo anche per informare la sanità pubblica vengono da modi molto precisi di classificare i dati in modo che per esempio un certo tipo di sequenza genetica venga associato a un certo tipo di patogeno che è associato a sua volta a un certo tipo di territorio. Se non ci sono questi legami che vengono creati durante il viaggio dei dati, avere conoscenza alla fine di questo tipo è impossibile e quindi questo è il motivo per cui cerchiamo di tracciare i viaggi. Chiaramente questo rivela anche varie situazioni in cui ci sono posti dei problemi, in cui i dati non vengono disseminati molto bene o il modo in cui vengono classificati o teorizzati magari all'inizio di un viaggio è poco compatibile col modo in cui poi vengono interpretati una volta che vanno nelle mani di gente che li vuole interpretare in qualsiasi modo a loro interessi. Oggi si parla molto anche di Open Science, di scienza aperta e l'Europa sta ponendo molta attenzione a questo tema. I big data in che modo stanno cambiando il rapporto tra la scienza, l'attività scientifica, la ricerca scientifica e il pubblico, la società? Ci sono molte speranze sul fatto che l'introduzione dei big data e degli open data, cioè il fatto che i dati vengono mobilizzati in maniera molto libera e trasparente e che poi sia disponibile a tutti. Questo movimento veramente cambia la dinamica tra il mondo della ricerca, che molti vedono come un mondo che ormai è così specializzato, è così fatto di esperti, che risulta molto poco trasparente a chi non ne fa parte, e il mondo del resto della popolazione, che magari non dispone dello stesso tipo di expertise, non ha le stesse abilità, ma a cui interessa molto contribuire conoscenze a quello che viene fatto. Ora, da un certo punto di vista questa speranza è legittima e in effetti una delle caratteristiche dei big data è proprio il fatto che i ricercatori e altri settori che si interessano di interpretare i big data si servono di fonti di dati che sono sempre più diverse, che possono venire sia da ricerche scientifiche, ma anche da social media, da cose come Facebook o Twitter per esempio, da ospedali, dal governo, da varie entità e istituzioni, dal settore privato, e possono essere messi insieme per creare una visione un pochino più democratica della realtà, in cui varie voci che sono componenti della società trovano un loro sfogo nella rappresentazione dei dati. Ora, il problema è che, come ho già detto prima, questo anche può andare molto storto, cioè ci può essere un'aspettativa che grazie ai big data sentiamo la voce di tutti, mentre in realtà proprio il fatto che usiamo queste tecnologie digitali così avanzate per mobilizzare i dati tende a escludere molte delle voci che potrebbero, almeno teoricamente, partecipare a questo movimento. E quindi, per esempio, quando usiamo Twitter per avere informazioni su quello che pensa la popolazione, questo movimento è una mossa molto delicata, perché quelli che usano Twitter sono una parte in realtà molto piccola della popolazione che ha caratteristiche molto precise, tipicamente sono della classe medio alta, tipicamente tendono a essere più donne che uomini, sono di un certo tipo di età. Cosa vuol dire prendere dati da un settore della popolazione che ha queste caratteristiche e trattarli come se fossero la voce della popolazione? Questo può essere problematico e quindi bisogna stare molto attenti, io penso, da una parte a recepire il fatto che i big data e tutte le tecnologie associate ai big data hanno questo enorme potenziale di democratizzazione, ma dall'altra stare molto attenti a come esattamente questi big data vengono collezionati, quali vengono usati e che rappresentatività poi hanno, perché ci possono essere molte situazioni in cui se la gente semplicemente pensa, ah beh, qualcuno prenderà me date da qualche parte, che sia il mio medico, che sia il mio social media profile e poi li metteranno insieme in un modo che mi rappresenta, beh, questo non è ovvio, dipende da chi sta usando i dati, per quali scopi, ci sono molti modi per sfruttare questi dati, questo è assolutamente chiaro, anche solo dall'ultimo scandalo che ha coinvolto Facebook e Cambridge Analytica, quindi bisogna stare molto attenti, io penso, a essere consapevoli di questa grande opportunità, ma anche essere il più informati possibile su come effettivamente questa opportunità viene colta e essere anche coinvolti in questo.